Girone di ritorno finora amaro per il Mr. Jeff. Nel match della Longarina contro l'Eurobet Palermo è infatti arrivata la terza sconfitta consecutiva e gli uomini di Ricci si ritrovano ancora a secco di punti dopo il giro di Boa. Si allontana al sesto posto ma secondo Valerio Scatolini il vero Mr. Jeff si vedrà a breve in seguito agli imminenti rientri dall'infermeria. Rientrano un paio di elementi che a breve dovrebbero entrare, secondo me possiamo stare bene insomma con Max che dovrebbe rientrare, un altro terzino anche bravo che abbiamo fuori alla fine la squadra c'è secondo me. I bianconeri saranno sicuramente in grado di lottare fino all'ultimo per i playoff, la squadra ne è convinta. La parte d'emergenza è finita, secondo me i playoff con un paio di partite vinte ce la giochiamo poi non so se ci andiamo però secondo me stiamo lì insomma, la classifica è corsa. Tra le assenze più pesanti per i bianconeri c'è sicuramente quella di Guido Francucci il vero regista della squadra. Quando manca lui in mezzo al campo tutta la manovra offensiva ne risente. Mr. Ricci spera di recuperarlo già dalla prossima settimana quando ci sarà la rivincita in Coppa, proprio contro l'Eurobet Palermo. Il Guido forse paghiamo proprio questo attualmente, paghiamo non solo l'assenza di Guido ma il fatto di avere rincalzi che ci garantiscano la stessa qualità.